bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi raga siamo da ps4 quindi questo video raga questo glitch chiamiamolo un po come vogliamo andrà solo per ps4 perché queste attività ci sono solo per ps4 come vedete quindi ragazzi a questo punto possiamo iniziare mettete tra i preferiti l'attività o tutte le attività che stanno in descrizione raga solo per ps4 porteranno ognuna tutti i borsoni di colore differente una volta che l'abbiamo aggiunte raga le troveremo su attività preferite e andiamo su lts e troveremo le attività di aschi raga e sono tutte chiamate da fall bag ragazzi vai aschi vi lascio in descrizione il link e il colore e vi li metto tutti ragazzi quindi niente di più semplice raga una volta che siamo all'interno dell'attività non dovremo toccare nulla e la andiamo ad avviare a questo punto una volta che poi siamo dentro la lobby dobbiamo fare raga il solito trick per recuperare o gli outfit o i borsoni è veramente semplice quindi una volta che siamo all'interno dell'attività dovremo aprire touchpad ragazzi in questo caso e una volta che siamo nel touchpad andiamo su stile una volta che siamo su stile cerchiamo la voce luci vestiario che sarà una delle ultime e stiamo a switchare teno premuto o a destra o a sinistra raga per circa 40 secondi finché in bassa destra non vedremo un caricamento arancione ragazzi quando ci farà quel caricamento arancione siamo sicuri che il gioco ha fatto il salvataggio possiamo tranquillamente aprire il telefono e quittare raga a questo punto una volta in free mode se succede come è successo a me che spawno ragazzi col borsone per un secondo e poi si leva non vi preoccupate diventate membri della sicuro server o del motorcycle club e a quel punto cosa andiamo a fare switchiamo una volta a destra e una volta a sinistra l'organizzazione e a questo punto sbada bam ragazzi ci avrà messo il borsone invece se vi è andata di culo siete spawnati direttamente con il borsone raga meglio così quindi adesso cosa andiamo a fare lo andiamo a salvare come lo salviamo con l'oppressor e dobbiamo lanciarci dentro il negozietto delle maschere quindi ragazzi prendiamo il nostro oppressor e andiamo abbastanza alti una volta che siamo abbastanza alti siamo sicuri di avere equipaggiato comunque il paracadute basta avere semplicemente rango 11 ragazzi e a questo punto lo apriamo appena lo apriamo dobbiamo dirigerci raga dal negozio di maschere e dobbiamo cercare di sbattere raga dalle magliette oppure dalla parte dei caschi in mezzo alle maglie come ben vedete a questo punto spammiamo freccia destra per interagire con il negozietto e avremmo praticamente buggato il tutto salviamo l'outfit dove ci pare e piace io salverò sopra questo borsa rosa raga che avevo già fatto e a questo punto andiamo a selezionarci l'outfit e sbada bam avremo messo il borsone quindi in descrizione trovate tutti i link per tutti i colori per ps4 bella raga alla prossima sbada bam